Davide è pieno di tempo! Davide fa una prova speciale, eh! Fa una prova speciale, Davide! E' secco, è tutto secco! Qui c'è del pruno, eh! Madonna, ma qui non ci passa più nessuno! Era qui che c'era un po' di vegetazione! Giocan! E là! Ah! 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 Ma insomma, questo è un sarto! senti era aggressivo stai era visto si si io come si è fatto a facco e molle non lo so insomma è lì insomma mi sembra un sentiero semplice me lo ricordavo me lo ricordavo meglio ecco ora forse qui è migliorativo a queste rumba e sarte ora non è male un po alla cane sono entrato un po un po un po un po un po questo è nuovo secondo me non me lo ricorda un po 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 Grazie a tutti